Aggressioni fisiche accompagnate da offese, episodi ripetuti nel tempo ai danni di un loro coetaneo con l'aggravante che la vittima soffriva anche di difficoltà cognitive. Un branco di minori di un'età compresa tra i 13 e i 16 anni è sotto accusa in provincia di Caserta per una vicenza di violenze e di atti persecutori verso un ragazzo della loro sesta età, talvolta anche filmate, e la polizia ha notificato nei confronti dei due più grandi del gruppo una serie di misure prescrittive disposte dal Tribunale dei Minuri di Napoli. A condurre le indagini sono gli agenti e il commissariato di Maddaloni. Le indagini sono partite nei mesi scorsi dopo la denuncia asporta dai genitori della vittima delle aggressioni e in totale sono stati denunciati 5 giovanissimi. Le violenze sono state riprese con i cellulari di alcuni degli aggressori e i video sono stati pubblicati su social e chat create appositamente, questa l'accusa degli investigatori per perseguitare la vittima. Sono così emerse le condotte del gruppo e solo la non imputabilità di alcuni dei coinvolti non ha consentito l'emissione di provvedimenti di natura penale, come invece avvenuto per i due sedicenni. Ciò non escluderà per tutti i coinvolti i provvedimenti di natura amministrativa. I due minoregni destinatari e le misure restrittive penali saranno costretti, oltre a dover rientrare ogni giorno presso le proprie abitazioni e non oltre le 22, a non poter far uso dei social network e a poter utilizzare il cellulare esclusivamente sotto stretta osservanza dei genitori. In particolare dovranno partecipare anche ad attività di volontariato in favore di soggetti con disabilità che saranno indicate dai servizi sociali del comune di residenza.